Segretario a livello nazionale, si parla di Bonaccini e di Slane, lei ha un'idea? Adesso vediamo, a me colpisce il fatto che sono esattamente gli stessi due nomi che circolavano il giorno dopo i risultati elettorali, quindi forse si poteva già aver celebrato un congresso, avere già un segretario e ogni tanto questa retorica del prima i programmi e poi i nomi è retorica perché le persone rappresentano anche delle idee e dei progetti e questo andrebbe rispettato e valorizzato un po' di più.